Le punture di api e vespe possono causare reazioni sistemiche fatali all'uomo, un fenomeno che coinvolge il 5% della popolazione adulta. L'immunoterapia utilizzata per prevenire queste reazioni allergiche ha un costo molto elevato, superiore ai 200 euro, e rientrando nei cosiddetti farmaci salvavita, è a carico del sistema sanitario nazionale, ma con una particolarità a pescare teramo. Il paziente deve prima comprare il farmaco e poi viene rimborsato dalle ASL, un dramma per i pazienti in situazioni economiche precarie. Addirittura poi dopo 3-4 mesi, a volte anche dopo 6 mesi, può arrivare il rimborso, con un iter burocratico farraginoso, veramente da impazzire, che persone anziane non riescono a seguire. Con questa interpellanza noi chiediamo alla Regione Abruzzo di obbligare l'ASL di Pescara a fornirlo gratuitamente tramite la farmacia ospedaliera. A questo punto si risolverebbe anche il problema del costo, perché facendo una gara pubblica, abbattendo notevolmente i costi d'acquisto, possiamo risparmiare due volte, non creando il disagio al cittadino e risparmiando come collettività. L'immunoterapia varia di caso in caso richiede un trattamento in alcuni casi mensile, in altri bisettimanale. Impossibile fare fronte a tale spesa per molti che rischiano così la propria vita. La spesa è questa, l'anticipo per ogni vaccino è di circa 200 e passa euro ogni due o tre mesi. I vaccini sono di più, quindi si raddoppia, si triplica, eccetera, la spesa. Ora dipende dagli introiti, diciamo, dell'interessato, di che cosa ha a disposizione come fondi. Qual è il rischio di una persona che viene punta se non ha questo vaccino? Morire.